Agostino Perrone, detto Costantino, candidato al Consiglio Comunale di La Terza e al Consiglio Regionale Pugliese con Fratelli d'Italia. E allora, Costantino, un appello al voto, un appello che viene dal cuore. Sì, io mi rivolgo a tutti i cittadini di La Terza per quanto riguarda le elezioni amministrative di votare la nostra coalizione di centrodestra. Siamo 80 candidati consiglieri di cui io faccio parte, di votare per Angelo Cefalo, il dottor Angelo Cefalo perché è una persona... Candidato sindaco? Candidato sindaco, è una persona stimatissima. Mi rivolgo a tanti cittadini di aiutarci, così ci date la possibilità che possiamo aiutarvi. Per quanto riguarda al Consiglio Regionale faccio un appello sia ai cittadini che a tutti i paesi della provincia di Taranto di sostenermi perché darò il massimo della rappresentanza regionale. Grazie a tutti.